Musica Eeeh, buongiorno per i miei benvenuti in questo nuovo video come sempre, io sono TecNoddy e siamo tornati con un nuovissimo minigioco su Rainbow Six E oggi ragazzi siamo nel minigioco scopri qual è l'alibi vero In pratica questo minigioco lo avevo già annunciato all'epoca quando ero andato a provare i nuovissimi operatori e come testimonianza abbiamo questo video Sono arrivate due persone che sicuramente conoscete e qui abbiamo il signor TecNoddy Mi raccomando, presto facciamo un minigioco qua Sì, assolutamente, per forza Ma non riesce un parabellum, ma saranno obbligatori Se ho voglia poi con alibi sai quanti ne faccio? Esatto Trova il vero Sì, già ha pensato ragazzi, mente malvagia Già pensato, già malvagia Non è che sbaglia Esatto Non è che sbaglia In pratica questo minigioco ragazzi è molto semplice Io userò alibi e cercherò magari di mettermi in qualche zona della mappa dove non mi si vedono i piedi A questo punto piazzerò tutti i miei cloni e io mi metterò in mezzo a questi cloni Chi di loro indovina per più volte l'alibi vero vincerà Round 1 Qua è bello No ve lo faccio qui Ah così vi insegnate Tanto che loro dicono che il mio alibi si muove Adesso facciamo poi i furbetti anche noi Nooo Ah così si insegna Adesso non me, adesso, adesso mette solo alibi e lui se ne va Eh no, è impossibile Regà, io ci sono eh Allora adesso entrerà Jack per primo Che è il primo sulla lista Vai Jack, entra Appena ci sei dimmelo 3, 2, 1 Spara Spara Ma non in testa, al corpo devi sparare Non si vedeva, c'era solo Ma com'è che hai sparato? A caso? Oppure hai ragionato? Come l'ha fatto a capire non lo so, cioè ha sparato a muzzo a caso I sensi di ragno Eh i sensi da pirla Altro che ragno Ah così ci sono anche le belle grate e io godo Adesso voi tutti starete qui Tutti rivolti verso il muro Appena io vi dirò che sono pronto E romperò questo muro e metterò gli alibi E mo vi chiamo, ok? Oh spostatevi Tanto non ti si vede nei piedi Non ti si vede nei piedi da qua No? No, ma io sto abbassato e non io li vedo Eh no, perché c'è il muretto Allora giratevi tutti contro il muro No, te ne metto Uno a così Uno a così Ma quanti ne stai mettendo? Non ce la farò mai Ah io voto Questo in parte Ragazzi potete stare a due secondi senza sparare Oh sono pronto, safe Appena ci sei dimmelo Vai 3, 2 1 Spara Spara Ah 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 Io dono Dove sei? Safe? Eh perché scappi? Safe? Non vedo niente L'ho preso al volo Adesso ma abbiamo due centri di vita Esatto In una parte del corpo Al petto Ma che è? Oh ma chi è che sta facendo sti smile? Oh bellissimi Ado E non aprirti Oh regà Io sono pronto Adesso chiamo Adesso chiamo Chiamo Drago Vai Drago Girati 3, 2, 1 Spara Spara Ah 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 Ciao Drago Mi acca Mi acca Schifo Allora sempre stesso posto Rimaniamo sempre qui dai Adesso cambio l'ordine Non posso più Non posso più Allora Adesso manca E fa vedere Zio Peppe Vai Zio Peppe Girati Aspetta 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 Corri Attimo 3, 2, 1 Spara Eh vabbè Zio Peppe Regà ha fatto il furbo Perché quando era lì Che diceva Aspetta Aspetta Lui stava già guardando No mi stava Se No mi stava guardando dal letto Eh sì Tieni te lo trovi Alla grattagelo Spara al castello Eh vabbè dammi l'arma Ha finito alla punta del castello Sembravi uno spastico Che hai messo la cassa lì Entro guarda Ecco con quell'arma Spastico Oh io vado a plantar Allora Joelle ci sono Girati subito Hai 3 2 1 Spara E domani Ok Guardiamo il replay Com'è che la hai scoperto Ora ragazzi In pratica siamo entrati Nella seconda fase Ovvero tutti di loro Avranno un'altra possibilità E per ora il punteggio è Jack che ha indovinato Una volta Drago 0 Joelle una volta Zio Peppe una volta Chissà se Drago riuscirà A rimontare Oppure no Adesso ricominceremo sempre Con il solito quiz E il primo sarà Jack Allora voi state in molo Adesso ragazzi però Il livello di difficoltà Sarà un pochino più difficile Direi Oh Chi è quello lì che ho visto Che ha sbirciato Ho una scoppiata Drago guarda nel cielo E adesso vedrai che cos'è che ti troverai Avrai 5 secondi stavolta Ok Allora Jack Affacciati Vai sulla ringhiera Appena ci sei Dimmelo 5 4 3 2 1 Sparami Ah schifoso Come hai fatto Fai schifo Jack Adesso sarà di nuovo il turno di Drago Drago tu stai ancora lì che sto cambiando l'ordine Eh si vai Vai Drago ci sono vieni pure Vai ci sono 5 4 3 2 1 Spara Ah schifo Ciao Drago Drago lo sai che adesso in pratica te sei stato eliminato Addio Drago Per la fine non lo faccio giocare il mio fratello e vado a mangiare a vivo Adesso cambio l'ordine eh Il fratello John X di X Amato Zio Vep Amato Zio Vep Bastante Ok ora chiamo Eeeh Joelle vai tocca a te vieni pure Appena ci sei sulla ringhiera dillo Va bene super Ok Eeeh io adesso sono sulle scale vado sulla ringhiera Al mio 3 3 2 1 Sono sulla ringhiera 5 4 3 2 1 Spara No Mi hai preso dopo un po' Bravo 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 Comunque ti l'hai indovinato Adesso manca l'ultimo Zio Peppe Aspetta Zio Peppe schifoso Oh che vai da me Ho fatto niente Se io salgo e mi metto alla ringhiera E io provo a Vedo Il buco Ma non ci vedo Allora spiegami dov'è che ti metti tu per andare a mirare Ma non ci vedo Ok Come fai a non vedere qui Sei mio Mi giuro Non prendo la 4k Mica sembra di sentire e parlare Jack un po' più anziano Se me la compri tu John Nick Mamma mia HD Non ce l'hai full HD Oh zio Peppe Muoviti viecca Muoviti 5 4 3 2 1 Spara Ah Un altro in meno Non ci vedo Eeeh Aggiustà Non posso farlo io Final round Mamma mia Menz Perciò adesso raga In finale abbiamo Joele e Jack In pratica però Mo sta giocando il fratello di Jack Non Jack Perché Jack è andato a mangiare Voi siete i due finalisti Facciamo così 1 Facciamo proprio I buchetti infami 1 2 3 Ma lo vedi anche te qua sto drone Sì No non più L'ho rotto A me non si A me non si Giove gli sparavano Si rompeva Perché non c'è Allora Adesso facciamo che sale Joele Vai Joele sali Salgo Salgo 4 3 2 1 Spara Guarda Sperati che mi prende Ah Ciao Oddio È come prima eh Mi raccomando John Adesso Facciamo la stessa Cosa John Tu stai giù John Se mi individui Hai vinto Se no Si continua ancora con lo spareggio Ok Ok John Sali John Dwayne The Rock 5 4 3 2 1 Spara Eh vabbè Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ha schifoso Ha vinto Niente Il mini gioco Ma loco regà L'ha vinto lui Ha vinto il fratello di Jack John E prima Siamo arrivati in gala Fin di questo video Come sempre vi condivido Di lasciare un pollicione In su se questa Midica sfida Di trova Il vero alibi Vi è piaciuta Arriviamo a 5000 like Se rivolete Questo mini gioco E direi che per questo video è tutto Ci vediamo Al prossimo video Bella playerini Ciao 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 Ciao